Eh no Salvini, così no. Chi va via lo ringrazio e lo saluto, non è una cosa da dire. Se l'europarlamentare Francesca Donato ha mollato in polemica con il Green Pass è una cosa molto seria, è una cosa di cui dovresti fartene carico, di cui dovrebbe farsene carico Giorgetti, quello che ha l'ufficio pagato dai gesuiti, è la dimostrazione che la Lega perde pezzi, perde i suoi pezzi migliori perché Francesca Donato era veramente molto molto apprezzabile e il problema non è di Francesca Donato che troverà sicuramente altra collocazione visto la sua qualità e il suo spessore politico. Il problema enorme è della Lega che rimane con i Zaia, con i Giorgetti che si fanno pagare l'ufficio dai gesuiti. È un problema grosso, questa Lega si diventa una sorta di DC, è veramente messo male, messa male e sta perdendo tutta la sua forza innovatrice, sta diventata ormai sistema e quel che è peggio caro Salvini che se ne vanno anche gli elettori. Quindi io inviterei a stare a prendere molto 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 sul serio i segnali che arrivano dai territori, i segnali che arrivano dai sondaggi con un'emorogia continua e anche forte di voti e l'abbandono di figure di primo piano a livello europeo quale è appunto l'euro parlamentare Francesca Donato. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a mettere il like ma è sempre più chiaro che ormai la Lega è morta o moribonda.